bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi patch 13.40 la più importante della season una delle più pesanti abbiamo le macchine abbiamo gli eventi abbiamo le sfide abbiamo nuova roba voglio farvi vedere tutto prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a vedere tutta la carrellata di cose la prima ragazzi è un nuovo background che cavolo stai dicendo una nuova schermata di caricamento nuovo loading screen ragazzi che come vedete include il mecca team leader ma ci sono anche comunque delle macchine disegnate non si è ben capito se sarà un premio da salva al mondo che poi ovviamente andrà anche sul battle royale ma abbiamo anche ragazzi le prime immagini delle ricompense sul pass battaglia della season 14 o meglio la season 4 come vedete ci sarà un ampio spazio dedicato ai veicoli questi sono gli adesivi quelli che il vostro personaggio alza e che potete utilizzare nella ruota delle emote ma abbiamo invece anche le sfide che arrivano la nuova punch card la nuova scheda punti per quanto riguarda i veicoli come vedete dovremmo fare x chilometri con un passeggero a bordo mille chilometri 25.000 50.000 100.000 e 250.000 metri ovviamente no chilometri 250.000 chilometri altro che il razzo l'evento della season 4 quindi ragazzi anche qua punti esperienza gratis e cominciamo a vedere un po di skin che sono state trovate in questa patch 13.40 la prima come avete già capito è l'astronauta versione maschile che va a riprendere insomma i colori di siona anche per lui quattro stili mentre cinque sono gli stili per questa nuova skin davvero molto carino l'hanno fatta in tutte le salse col cappello senza cappello con la maschera con la con la mascherina insomma ne abbiamo un'altra ancora ragazzi molto carina anche lei verdina anche lei con uno stile personalizzato col cappuccio o senza cappuccio abbiamo il signor reggaeton che come vedete in realtà anche un coltellaccio sulla gamba sinistra molto colorato molto molto carino arriva invece anche in un aggiornamento per quanto riguarda il bundle di catwoman quello che era arrivato con batman non sappiamo sinceramente quale sia l'aggiornamento ma ho visto che hanno aggiornato anche la musica di background quindi staremo a vedere se per caso avranno aggiunto uno stile nuovo ed ecco finalmente la prima immagine ufficiale nei file di gioco del bundle shadow non sappiamo quando arriva probabilmente non in questa season perché abbiamo appena preso il summer legend pack ma potrebbe magari anche essere in arrivo nella prossima di season nelle prime settimane come vedete un nuovo mecha leader l'archetipo è in in veste di ombre e la skin maschile del bombarolo come avete visto andiamo avanti ancora con skin molto particolari e finalmente le coperture tre coperture escape local rodeo non saprei pronunciare quella parola lì e calcomnias de estrellas quindi le stelle ragazzi due molto colorate tutte e tre comunque animate una rapida visione anche dei picconi ragazzi il primo è uno dei più importanti quello degli avengers o meglio le mani di hulk perché scaricando per tutti voi che avete xbox o ps4 la beta di avengers la beta si scarica in maniera gratuita e completandola potrete ottenere in game i picconi questi sono picconi ragazzi che però in realtà sono le due mani con lo stile personalizzato e come vedete ragazzi abbiamo anche un sacco di altri picconi per lo più doppi insieme anche all'ultimo che secondo me è più uno stile perché è molto simile a quello che avevamo già visto sulla skin che abbiamo ottenuto nel pass battaglia al primo livello una serie anche di altri oggetti per quanto riguarda i nuovi outfit niente di che sono tutti come sempre molto molto inerenti al mare insomma quello che questa season ci fa vedere finalmente arriva anche la skin spoilerata nel trailer di qualche giorno fa che vi avevo fatto vedere tra gli stili personalizzati tra l'altro notiamo che lo stile verdino in realtà l'avevamo già visto nella schermata di caricamento del pass battaglia molto carino anche l'ultimo stile invece come vedete infuocato tre stili anche per il backpack e avete capito ovviamente che è un bundle perché c'è il logo dei v bucks e molto probabilmente saranno mille i bucks che verranno ridati e quasi certamente la skin costerà 9 e 99 arriverà anche un background musicale ragazzi per cambio di onda che non mi ricordo il nome in italiano sinceramente quindi potremmo invece tranquillamente acquistarlo nello shop e andiamo avanti ancora con un po di skin molto strane molto carine finalmente inserito anche john c naufrago questo è preso insomma dall'immagine che abbiamo visto in un vecchissimo trailer dove sparava appunto con la flare gun arriva un nuovo ninja sembrerebbe una skin molto bella invece questa ragazza con le trecine i capelli super colorati e vi ricordo che oggi nello shop c'è il nuovo pack o meglio c'è il nuovo bundle del dummies che sarebbe praticamente l'omino del crash test skin più piccone a 1200 ci sa skin più backpack a 1200 piccone e copertura per le armi quindi ovviamente se volete lo troverete nello shop andando avanti invece una delle più grandi modifiche che sono state trovate è l'inserimento di una quantità assurda di nuovi pesci in questo momento state vedendo le meduse ma poi ve ne faccio vedere degli altri ogni pesce ha una caratteristica differente c'è il pesce fuoco c'è il pesce ghiaccio c'è quello che ha la bassa gravità ce ne sono veramente tantissimi davanti ancora hanno veramente inserite 26 skin nuove sono davvero tantissime questo invece è un deltaplano che farà parte di qualche band di qualche skin il deltaplano verde l'abbiamo visto con la seconda skin verde mentre questo invece è una specie di medusa che andrà questo invece un'immagine ufficiale di uno dei flopper che vi avevo anticipato nuovo flopper anche questo il flopper shield lo capiamo appunto dal colore e anche i preliba pesci vengono come vedete modificati ce n'è giallo ce n'è uno blu ce n'è uno viola ce n'è uno bianco faranno veramente una rivoluzione per quanto riguarda il gameplay andando avanti ragazzi invece un'immagine più dettagliata della della coppia di picconi delle mani di hulk però vi ricordo una cosa se non avete la console non vi dovete preoccupare perché comunque questi picconi usciranno anche nel negozio non si sa quando ma li potremmo acquistare tutti una rapida visione anche di come saranno le quattro nuove coperture le stelle questa è più un'onda come vedete sempre va a riprendere sottomarino bellissima questa animata questa va su ciunga l'ho detto ragazzi sulla skin spaziale e abbiamo anche una specie di copertura che va a richiamare un pochettino la superficie lunare informazione molto importante ragazzi attenzione perché da adesso per 15 giorni nello store di microsoft il bundle con il mecha team leader e 1000 v bucks non costerà e salva al mondo non costerà 15 non mi ricordo quanto l'ho pagato 20 euro ma costerà 5 ragazzi prendetelo anche solo per i v bucks 5 euro 1000 v bucks vi va benissimo fossi in voi lo farei andiamo avanti perché questa skin l'ho voluta mettere separata dalle altre in quanto è molto importante è la controparte femminile di del set di atlantide mi spiego meglio questa è dovrebbe essere la moglie di acqua cioè io mi auguro per lui di no perché non ha il naso non ha il naso come cazzo fa e sarà un bundle perché arriva insieme al suo piccone al suo backpack e ci sarà anche un emoto staremo a vedere tre le nuove ltm scoperte dalla misera alla ricchezza elimini i giocatori per potenziare le armi competi in questa variante dalla corsa agli armamenti di battle royale in cui tutte le armi generate nella mappa e le casse sono di livello comune quindi dovremo uccidere per poter potenziare le armi ma tornano anche le knockout knockout shuffle competi in una battaglia a squadre a 4 turni la squadra con il maggior numero di eliminazione alla fine del round prosegue la squadra che vince il quarto round vince la partita e la knockout air raid competi in una battaglia a squadra a 4 turni ma la modifica è qua avrai un jetpack con un ambiente a bassa gravità quindi va in aria e rivendica la vittoria e per ultimo il pezzo forte ragazzi abbiamo innanzitutto questo c'è un evento sono due cose che vi devo dire non vi preoccupate che adesso ci sono i veicoli c'è un evento ragazzi che si chiamerà high tower quindi torre alta dove sarà compresa una nuova location abbiamo già dei file audio e inseriti nello spettrogramma si vede una figura staremo a capirne di più ovviamente nel video news di domani e arriva finalmente la prima immagine ufficiale dei veicoli in game e insieme all'immagine anche i porca vacca non li ho messi sei serio? un secondo che ho perso i render dei veicoli it's not possible? it's not possible ho messo i render? non ho i render non ho i render? un secondo ma ce li ho i render dei veicoli? li ho messi? li ho messi? ve li faccio io manuali? ve li faccio? veicolo numero uno ragazzi eccola qua la macchina normale l'utilitaria veicolo numero due il camion veicolo numero tre la macchina da corsa veicolo numero quattro a me sembra sinceramente la macchina di batman vi ricordo ragazzi che i veicoli hanno uno spawn rate del 35% l'uno e quindi saranno disponibili anche non appena finirà il downtime insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video news mi raccomando non dimenticate un bel pollicione in su iscrivetevi al canale a me mi trovate proprio adesso a guidare le macchine in live su twitch ciao come fenomeno